Con Stefano Foglio a Cortina in Contra, a cui chiedo subito, la Borsa di Milano ha appena chiuso con un ribasso di quasi il 2,5%, sembra una crisi inarrestabile, qual è la ricetta secondo lei? La ricetta non saprei, credo che si possa dire che ogni soggetto nazionale debba agire in questo momento, penso soprattutto all'Italia, come se la crisi fosse globale, in effetti è globale, ma come se le soluzioni fossero dipendenti dalla nostra responsabilità. Quindi noi dobbiamo agire come se dovessimo risolverla da noi questa crisi, non soltanto rimetterci alla denuncia di fattori esterni o di cause inafferrabili perché non dipendono da noi. Tutto dipende da noi, anche se naturalmente noi interagiamo in un'economia globale che oggi sta pagando il prezzo dei troppi squilibri. Lei è d'accordo con quello che ha detto ieri Paolo Mieli che sarebbe opportuno vendere tutto, tutto ciò che è in mano allo Stato italiano, privatizzare qualsiasi cosa? A partire dalla RAI? Io penso che sì, sicuramente questo è un Paese che avrebbe bisogno di grandi privatizzazioni, tutto è un'espressione che non so bene cosa voglio dire, però certamente ci sono grandi settori che lo Stato occupa in maniera indebita e che dipendono da vecchie situazioni, il mondo è cambiato in questi 50 anni, non ha molto senso che lo Stato occupi la RAI o che abbia le poste, le poste potrebbero essere tranquillamente privatizzate. Ci sono dei cespiti importanti da recuperare privatizzando un certo numero di attività e poi credo però che andrebbe anche detto che il nostro sistema non cresce perché è troppo chiuso, troppo ingessato. C'è tanta liberalizzazione da fare, ci sono tante ingessature da spezzare, quindi privatizzare può significare qualcosa riguardo al debito, ma liberalizzare significa molto riguardo alla crescita. Credo che questo sia il secondo corno del dilemma, non meno importante del primo. Galan ha detto che secondo lui si va a votare a maggio 2012, Berlusconi si è affrettato a dire che invece si arriverà a fine legislatura? Il giudizio di Stefano Folli? Io lo dissi qui a Cortina l'anno scorso, dissi che secondo me bisognava votare rapidamente, cioè nella primavera di quest'anno. Rimango di questa idea, il nostro sistema sarebbe meno debole e meno esposto ai venti di tempesta se si fosse votato nella primavera di quest'anno e oggi fossimo all'inizio di una legislatura con delle forze politiche pienamente legittimate e quindi anche più determinate. Invece abbiamo vissuto il lento disfascimento di questa legislatura. Adesso che si vada a votare nel 2012 o nel 2013 a questo punto purtroppo non è nemmeno così appassionante come interrogativo. Penso che in questo momento si debba fare uno sforzo molto serio di coesione nazionale per tirarci fuori dal baratro in cui siamo precipitati e vediamo se basterà. Che poi tutto questo ci porti a votare tra qualche mese, cioè nel 2012, oppure che si ritenga che sia meglio però diciamo sulla base di uno sforzo in atto e non di chiacchiere ad arrivare fino alla scadenza naturale, ripeto, questo lo si vedrà in autunno. A questo punto secondo me non è politicamente così essenziale anticipare il voto, mentre lo sarebbe stato l'anno scorso se si fosse deciso di votare della primavera di quest'anno e di ripartire con ben altro vigore. Grazie.